1, 2, 3, prova. In Praia Grande, San Paolo, la Polizia Federale del Brasile, a conclusione di un'indagine condotta in cooperazione internazionale con i carabinieri di Torino, coordinati dalla locale DDA e supportati dall'esperto per la sicurezza della DCSA nel paese sudamericano, ha arrestato Nicola Assisi e il figlio Patrick, entrambi colpiti da provvedimento restrittivo perché responsabili di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti e inseriti nel noto elenco dei 100. Assisi Nicola deve anche scontare una pena definitiva di 14 anni circa. Nel corso dell'operazione sono altresì stati sequestrati due pistole, un chilo di cocaina e una macchina per replicare sigilli per container. Durante le fasi dell'arresto sono stati sequestrati una quantità tale di banconote che gli investigatori hanno dovuto pesare e non contare per un totale di 20 kg. Le pistole erano nascoste in un vano del box di controllo della piscina, i soldi e la droga erano in una camera nascosta da una falsa parete. Il latitante Nicola Assisi è abitato a lungo San Giusto a Canavese e la sua villa è stata sequestrata circa due anni fa. Grazie a tutti.